Fratelli e sorelle nere azzurre, buonasera a tutti. Allora, io vorrei parlare un attimino della situazione del contratto di Cardi. Ho letto per caso sul televideo, o meglio, una nostra tifosa interista, mi ha mandato una fotografia del televideo e mi ha detto ti prego Lucri, dimmi che non è vero. Io non so fino a che punto ci sia verità e certezza in questa cosa, però c'è scritto che per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi Van Danara ha un pochettino storto il naso e non è d'accordo a un contratto di 6 milioni di euro netti a stagione ma bensì vorrebbe 7 milioni di euro a stagione in più i bonus per ogni gol fatto in campionato, in Champions. Ora non ricordo bene. Io volevo sapere voi che cosa ne pensate di questa situazione qua. Io penso una cosa, che se tu sei il capitano dell'Inter e sei attaccato alla maglia per quanto vuoi e per tutti i miliardi che voi avete, non penso che ve ne fate niente di un milioncino in più. Visto che la signora Van Danara ha sempre Gucci che fa regali, Versace che fa regali, Diadora e Nike, no Diadora forse no, Nike che fa regali, Prada che fanno regali. Ma di che stiamo parlando? Se non vi danno un milione di euro in più morite di fame? E allora qui scatta l'attaccamento alla maglia. Se tuo marito, caravanda, è attaccato alla maglia dell'Inter, non bisogna fare sempre questioni ogni volta, visto che per un milione di euro non diventate dei pezzenti. E visto che c'è gente che lavora per mille euro al mese e campa una famiglia intera di 5 persone, se non di 6. Quindi, fratelline Razzurri e sorelle, mi dite che cosa ne pensate voi? Io personalmente sono alquanto schifata da ogni polemica che fa Van Danara a ogni rinnovo di contratto. Non so voi, ma ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre Forza Inter!